La scuola La scuola La scuola La scuola La scuola La scuola Ciao Sei nuovo qua? Noi stavamo andando in classe se vuoi venire a fare un giro della scuola ti portiamo Il Liceo Artistico Arturo Martini di Schio offre un percorso orientato allo studio della pratica artistica favorendo l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione creativa i linguaggi e delle tecniche relative fornendo così agli studenti gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale è il modello di universo che avevano gli antichi in particolare In cinque anni il nostro Liceo insegna materie umanistiche e scientifiche iniziando da un biennio comune dove si studiano sia le arti figurative che le discipline geometriche Alla fine del biennio lo studente può decidere quale indirizzo scegliere tra quelli proposti La nostra scuola offre la possibilità di scegliere tra due indirizzi arti figurative e architettura e ambiente Negli ultimi anni stiamo lavorando per introdurre anche l'indirizzo di scenografia Arti figurative comprende due materie di indirizzo discipline pittoriche e discipline plastiche Questo indirizzo si pone come obiettivo quello di rendere consapevoli gli studenti del loro potenziale creativo e aiutarli a dare forma al proprio pensiero Le discipline plastiche scultore hanno la finalità di fornire allo studente un insieme di competenze delle tecniche delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali sia tradizionali che contemporanei al fine dell'elaborazione della forma scultorea Le discipline pittoriche invece fanno conoscere agli alunni le principali tecniche grafico-pittoriche fanno sviluppare tutte le fasi inerenti all'esecuzione ossia i bozzetti, i progetti definitivi la definizione bi- e tridimensionale di originali o di copie d'albero Le materie di indirizzo di architettura ambiente sono divise in discipline e laboratorio Questo indirizzo fornisce agli studenti competenze per gestire in modo autonomo un percorso progettuale completo cogliendo il valore della produzione urbanistica del passato e contemporanea utilizzando diverse modalità grafiche e informatiche Nell'offerta formativa sono compresi anche diversi progetti extrascolastici come la collaborazione con il teatro civico che da anni ormai l'istituto può vantare con il laboratorio Campus Company il progetto Pantaloni Rosa volto a raggiungere consapevolezza della propria identità e l'opportunità per gli studenti di esporre le proprie opere in mostre d'istituto A che facoltà posso iscrivermi dopo aver fatto il liceo artistico? Beh, questa scuola oltre che a fornire lo sviluppo della creatività e l'acquisizione di tecniche grafiche favorisce anche una buona base culturale oltre a facoltà come belle arti architettura o design è comunque possibile accedere la maggior parte dell'università Grazie a tutti 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 Grazie a tutti